Uh, allora, andiamo Lanciarti fuori dal gruppo Faccio schifo per a me E vale! Buongiorno, buon giorno di questo nuovo video Che è un prank Sì, non abbiamo mai fatto un prank a questo canale Quindi questo è il primo prank, primo scherzo Che facciamo a qualcuno Lo faremo tramite telefono perché come sempre sono solo e solitario Ma conosco della gente che però posso contattare solo tramite telefono o segnale di fumo E cosa faremo oggi? Bene, chiameremo questo carissimo amico per dirgli che non siamo più amici Che in realtà è da un po' di tempo che stavamo cercando di distanziarlo dal gruppo Ma che alla fine a me è toccata la volta bollente Nel caso in cui dovesse non ancora crederci Diremmo che è solo una mia idea e che non lo sopporto più E che voglio che non ci sia più nel gruppo Quindi, prima che io mi faccia picchiare da qualcuno Perché queste cose non vanno fatte Lasciate un like Io mi sono messo A... non lo so come si... A gambe incrociate perché così sto più comodo E direi di cominciare subito provando a chiamare questo tipo Perché boh E' la stessa persona che ho chiamato nel video del Winnie the Pooh Io non sono pronto assolutamente Non mi ricordo... Mi ho scritto un paio di cose Adesso ho da cercarle perché se no Non so niente Il prank fallisce Voi mi rite qui i picchiate perché il prank è fallito Il primo prank non può fallire Allora siamo pronti Io ho un'attenzione addosso che non potete capire Allora andiamo Marco Marco Cosa stai facendo? Una pizza Sto guardando delle live eccetera Ok allora puoi sentire perché devo dirle una cosa molto seria Quindi... Io ascoltarmi in attimo Allora Allora No è una cosa veramente seria Quindi Marco Non scherzare Non dire niente perché è serio Allora Praticamente ieri ho parlato con Brian C'è in realtà è da qualche settimana che sto parlando con Brian di questa cosa E... E' un po' difficile Praticamente Sei diventato insopportabile Sì perché il problema... Cioè non è possibile Sei sempre lì E con questi cazzo di video che continui a mettere ogni volta Quello con la rete che non funziona Quello che laga Quello che fa Cioè è in realtà è insopportabile E... E... E non voglio... Non volevo questa cosa Ma è girato anche di buttarti fuori dal... Dal discord Questa cosa E... E visto che ero io Che ho fatto tutto il casino Che ho messo insieme la gente Diciamo che Brian ha preferito Dare a me la patata bollente Del... Del... Del lanciarti fuori dal gruppo Non lo so Ti fai una vita Perché probabilmente Noi non siamo le persone giuste Con cui dovresti... Dovresti... Giocare Perché ormai Sei... Sei obsoleto Sì ormai sei obsoleto Con i tuoi urletti Con i tuoi tipi pelosi Con... Con la gempo Con i tuoi litio C'è il tizio che mangia Quindi... È una cosa brutta È tutta colpa di Brian Tutta colpa sua È lui che ha spinto per questa idea Io ho cercato di trattenere Di fare Ma Brian era... Era convinto E... Io non volevo distruggere due amicizie Quindi ho preferito distruggerne una E... E quindi... Addio Marco Sei stato una persona insopportabile E... E quindi... Niente Qui finisce la nostra avventura insieme Non vi vedrai mai arrivare a un milione di iscritti Quindi... Addio Marco Addio Marco Allora Allora ok Allora fermi tutti Questa cosa si è stato fatta in una... In una teatrino Che non aveva nessun senso Ok? Io non ho capito assolutamente niente Quindi tutti stavano prendendo in giro Tutti quanti E io sto urlando Perché mi ho detto Che se si urla Si cresce di iscritti Io non ci sto capendo niente Adesso io non so A me sembrava tutto A me sembrava che io stessi dicendo stronzate E che tutti stessero dicendo stronzate Quindi Adesso Mi sa che non lo so più Questo prank è fatto schifo Si Mi dispiace di avervi deluso Ma mi sa che il prank Non è... Non è stato capito Quindi richiamiamo Marco E adesso gli diciamo che è tutto un prank Così per sfizio Pronto Allora signor non più amico Quello era un prank uscito male Non può farmi queste cose Lei è una brutta persona Quello era un prank uscito male Infatti Infatti a un certo punto sembrava un teatrino Io che dicevo una cosa E tu che dicevi Un'altra Ci ho provato a fare gli scherzi Io non ci riesco Mi viene da ridere Faccio schifo veramente Allora io ho scritto tutto un foglio Adesso dico questo potrei dire questo Quest'altro Alla fine mi sono messo a ridere Non ci ho capito niente I prank non fanno per me Ok Questo è Un po' più autoritario Questo è il primo E l'ultimo prank del canale Perché veramente Che schifo È uscito La prossima volta La prossima volta faccio così Allora Marco Devo dirti una cosa importante Ridere è un palle È un palle E non si può fare niente Devo dire una cosa importante Allora Sono diventato una persona La prossima volta ti chiamo E ti dico Marco Sono incinta Così può darsi che ci credi È un po' più edificio Ah ok Uffa Che palle Non so fare in freddo Non so dire Alla gente che fa schifo E che deve andarsene da sola Vabbè questo sarà il video Più brutto del canale Ma anche quello In cui io farò più schifo Quindi Nel dubbio Io direi A tutti gli iscritti Andate tutti In un bel po' Cosa Non andare a quel paese Tutti quanti Andate all'Hawaii Tutti quanti Eh L'Hawaii L'Hawaii è un bel paese Comunque Ringraziamo Marco Per aver partecipato Al prank più brutto Di YouTube Italia Vedi perché la gente Fa i prank falsi Perché se li facesse veri Uscirebbe questo Eh Questa è la prova Che sono tutti falsi Ecco Quindi oggi abbiamo smascherato Tutta YouTube Italia Grazie a Marco Vi ricordo che se questo video è piaciuto Lasciamo mi piace Se chiedete al canale Condividete il video E attivate la campanella E noi ci vediamo Ad un prossimo video Magari ti esce bene Non un prank brutto Dove Non fallisce Arrivederci Grazie a tutti Ciao Ciao